Grazie per la visione! Quando si perde quel senso di sogno, quando si perde quel senso di utopia, non si può essere creativi, non si può innovare, non si possono fare un sacco di cose e non si fa altro che replicare il passato. Noi vogliamo anche che un po', almeno per quello che abbiamo costruito Wild, io e Gregorio, ma insieme a voi tutti, diventi davvero un posto in cui le persone possano brillare al loro meglio e possano farlo nel modo più importante possibile. Grazie a tutti! Grazie a tutti!